Ok, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che noi europei utilizziamo il PEGI Una volta utilizzavamo nel periodo PlayStation 1 e inizio PlayStation 2 l'ESPAL E già adesso siamo passati al PEGI che inizialmente era fatto così Poi decisero per qualche motivo di invertire i colori Ed ecco qui un esempio Per poi diventare così con il design più bello di quelli che hanno scelto E con un'indicazione dietro ovviamente anche se molti genitori non lo capiscono lo stesso Però dovrebbe lasciarli tenere Con dietro per esempio qui ha scritto che il gioco contiene volgarità, violenza e gioco online Questo è quello Astro Mas Invece in America hanno questo In America e in UK hanno questo Mi sembra che si chiama ESF Dove una volta c'è scritto Rated I Rated A così per decidere a chi fosse indirizzato il gioco Con una scritta di fianco su cosa esattamente contiene il gioco A livello di contenuti maturi o meno Una cosa che va detta è che molti giochi che in America magari vengono classificati come Non so 16 oppure M per maturo così Non accadere che facciano ciò Oggi che siamo in Europa in un paese dove c'è da mettere certi elementi in un videogioco come eccessiva violenza Così come in Germania per dire è effettivamente illegale Si può passare proprio dei guai legali Quindi suppongo che cerchino di alzare comunque il target qui in basso Per fare in modo che molti giochi vengano comunque considerati per adulti Anche se in realtà non sono stati pensati per essere giocati dai Tino Dei macchurro cioè dai ragazzi 10-14 anni e poi da quei che hanno più 17 Che in realtà non cambia molto però è un appunto giusto Perché per dire un gioco come HitLED che non ha proprio alcun sangue a solamente termine a fuoco Da noi è considerato 16 più Poi che altro dire Ah si in Giappone invece non ho nessun gioco giapponese per 163 però ve lo dico C'è il Cero Che il Cero è tipo A, B, C e Z E i giochi Cero Z non vengono proprio distribuiti Vengono direttamente Non proprio censurati Viene impedito Impedita la vendita dei negozi Quindi se tu non so vuoi giocare in Femus Da loro è Cero Z Cioè vietato ai minori Devi ordinarlo da Sonic Loro te lo spediscono a casa per dire Perché nei negozi non so Per proteggere i bambini Non so bene quale sia la loro legge Però è così che funziona Ora passiamo ai giochi PSP La prima console portata di Sony E possiamo notare che non è cambiato di un tubo nel tempo A parte che comunque c'è anche qui l'edizione essential Ma non è nessun gioco essential Inizialmente i giochi Questo qui è un proprio titolo di lancio Il gioco con cui presi la PSP Medieval Resurrection Possiamo notare che Qui è tutto completamente nero Questo qui Così è rimasto sempre tale E la copertina è Parecchio bella Trasparente anche nell'edizione di Platinum In questo modo possiamo avere Delle immagini molto belle Ogni volta che abbiamo la copertina A mio parere Avere le copertine con i giochi Così è una cosa bellissima Io non ho mai sopportato La distribuzione digitale Di titoli di AAA Cioè solo digitale Per me tutti i giochi Abbastanza importanti Diciamo Che poi importanti La massa Però comunque Abbastanza importanti Dovrebbe avere Una copertina Una distribuzione fisica Anche perché comunque è più bello A me piace molto di più Comprare i giochi In disco Anche perché Comunque una volta che compri gioco in disco Hai la certezza che andrà Non dico per sempre Ma Hai la certezza che andrà Per un bel po' di anni Invece se hai compri digitale Se non per la console Non ce l'hai più Qui la La situazione è differente Giusto un poco Perché la scritta è Grigia E L'icona del joypad Anche se la PSP Non è il joypad È Un po' più scalinata Della versione normale La scritta platinum Utilizza lo stesso Stile Della scritta Platinum Della PS2 Invece che chiamassi The best of playstation Chiamassi the best of PSP PlayStation portable Il che non ha molto senso Perché Per dire prima Era Vabbè Nella PSP abbiamo L'icona bianca Cioè l'icona con lo sfondo bianco Il che ci rimanda molto Diciamo Ai periodi Cioè no Ai periodi Alla Alle console E buonanotte Alle custodie PlayStation 2 Giapponesi Apriamo i giochi E vediamo dentro Allora possiamo vedere Che Bene o male Sono la stessa cosa Adesso questo qui Non ha la cosa dietro Ma non è Penso che non c'era bene Anche l'edizione normale E Comunque Io non ho neanche un UMD Adesso vi faccio vedere Anche perché Se i giochi vecchi Che abbastanza più nuovi Utilizzano più o meno Lo stesso Lo stesso stile Non ha subito Modifiche nel tempo Credo Forse minime Ma Non che io sappia Per dire Poi delle UMD Io li tengo dentro Queste cose Quei che sono cose Venuti da Sony Sia separatamente Che Assieme alla console Che ti permettono Di portarti i giochi UMD Infatti in giro Più facilmente Perché Cioè E in maniera un pochino più Ehm Come dire Più sicura E più portatile Che potersi dietro tutta la confezione O potersi dietro gli ischetti E basta E ora passiamo a PS Vita Che è l'ultima console Uscita da Un anno Credo Della Playstation Di Sony Possiamo vedere Che Per ora Non ha subito Modifiche di alcun tipo Allora La copertina È totalmente blu C'è proprio blu Più chiaro Di quello della Playstation 2 Perché Quella da Playstation 2 È blu scura Invece qui è proprio blu Quasi azzurro Il che ci vuol dire È bello esteticamente Ma ci impedisce Di avere cose carine dietro Alla copertina Quando l'apriamo E Sostanzialmente C'è ben poco Da dire A riguardo Perché appunto Io non ho mai visto Una confezione giapponese Ma O americana Ma penso che siano esattamente uguali Cambia giusto il pericolo Qua però E sostanzialmente Sì I giochi Che sono passati Da UMD A schedine A mio parere È una cosa buona Perché Se parliamo di un gioco Di una console Da attaccare a televisione E parliamo comunque Di un gioco Che Vedo mai Lo puoi inserire Puoi lasciare che si installi Il gioco Dentro alla console Invece Se parliamo di un gioco Di una console portatile Il gioco ha bisogno Di avere Di caricare più in fretta Perché appunto Vi portate in giro Quindi è stato Un bel passaggio Da dischetti a schedina E niente Questa qui diciamo Che è un po' Tutta la storia Mi manca I giochi PlayStation 3 Però a quanto ho capito Sono fatti Come quelli I giochi PlayStation 4 Sono stupido Perché sto registrando Non l'abbastanza Da l'una Cioè neanche A mezzanotte Sono esattamente uguali A quelli PlayStation 3 A quanto ho visto A GameStop So solamente Che manca Questa parte qui E sono tutti fatti Di azzurro chiaro Cioè no azzurro chiaro Azzurro trasparente Il che Magari non è neanche un male Perché in questo modo Anche se Un po' più brutto Che così Si può vedere comunque L'immagine nel retro Un attimo che Mostro che anche qui C'è un'immagine Però senza spaccare Nulla Quindi si Questa qui è Diciamo tutta la storia Delle copertine PlayStation E un appunto finale Che voglio fare Sui libretti Da che ci sono Lo faccio E che a differenza Della Dell'altra console Della concorrenza Diciamo Che Inzozzava A mio parere Inzozzare Perché i libretti Comunque sono una cosa Abbastanza carina I libretti Di loghi Tipo Xbox Tutto sopra Come se fosse la copertina Così E Sony Non ha mai fatto questo E ha lasciato comunque Il libretto pulito A me piace molto più così Sinceramente Perché Per dire Aumenta Sotto un certo punto di vista La libertà Dei Degli realizzatori Del gioco Nel fare il libretto Perché Vabbè È una cosa che Non legge mai nessuno No Però È È carino Quando Tipo Fanno i libretti Abbastanza particolari Mi ricordo Che sulla PlayStation 2 Succedeva ogni tanto Che i libretti Erano tipo spiegati Disegnati Tipo fumetto Così Cioè Pramente nessuno Se ne ha mai accolto Però a volte Succedeva anche questo E soprattutto Liberti del genere Così Di questo genere Sono molto più belli In versione Per PlayStation 3 Per dire Cioè Per dire Se voi non conoscete Fallout 3 Da libertà Non capite di Fallout 3 Però È molto più carino Vedere guida di sopravvivenza Che avere tipo La scritta Xbox Sopro Gamecube Da una parte È proprio pulitissimo A mio parere È molto più bello così Poi io sono gusti Però Ha quello stile In più E lascia comunque Molta più libertà A chi realizza Del gioco E chi realizza i libretti Di dare una personalità Diciamo A questi libretti E quindi È un punto in più A mio parere A livello di estetica Per le PlayStation Che sono sempre state così Adesso non mi ricordo Se Sulla PSP fossero così Ma comunque Penso di sì Perché Sì sì Anche su PSP sono così Ah giusto Ho fatto il paragone PSP e PSVita E niente Le custole PSVita Sono Proprio A livello di Larghezza identiche No Però sono più piccole Sono Diciamo Due terzi Di quelle Più o meno Due terzi Di quelle Delle PSP Ciò li rende comunque Più portatili Perché avere Dei custodi giganti Per i giochi Cioè è bello È sicuramente molto bello A me piace Però Portarsi in giro È più facile In questo modo In più Sono schedine Quindi È molto più comodo Tipo È più difficile Che si rompano In più La PSVita È già Attrezzata Per una cosa Del genere Insomma E niente Questo qui era tutto Ho fatto un video Lunghissimo Per spiegare La storia Però Mi andava di farlo Perché comunque Cioè ci sono molte cose Che la gente non sa Che magari potrebbe Anche interessargli Io Lo spiego comunque Perché così Mi andava di farlo E Se me lo chiedete No Non farò mai Storie Sulle copertine Di altri Di Nintendo Di Sega Di Xbox Di Microsoft Così perché appunto Io non Non ho abbastanza Esempi da mostrare Perché Si parla comunque Di console abbastanza O molto vecchie O troppo nuove A mio parere Perché Si parla comunque Di anni Cosa sono Prima degli anni 90 Oppure Di Che Se è comunque Senza esempi Perché Per Xbox Sono due gli esempi Tre forse Non è che sono tanti Forse quattro E in teoria Neanche tutti Quindi Niente A mio parere Il video può terminare qua Spero che vi sia piaciuto Ditemi nei commenti Se ho detto cose Che non sapevate già O che sapevate già E ci vediamo Al prossimo video Ciao